è lunedì e come ogni lunedì bisogna fare l'analisi delle challenge del weekend precedenti in questo caso possiamo analizzare standard, historic, scusate, pioneer, modern e legacy quattro formati che fanno del cartaceo il loro punto fermo buonasera ragazzi, buonasera a tutti partiamo subito con standard partiamo subito con standard ma permettetemi di ringraziare assolutamente il buon master che si è subbato con un tier 1 grazie di cuore master, grazie mille dunque standard vede vincitore l'occhio, l'occhio con l'ultima challenge ha vinto con una versione abbastanza classica, è la versione che abbiamo già visto e rivisto è una versione che io in best of one non riesco a far performare ma che riporterò forse addirittura stasera è una versione molto basic, non ha nulla di più nulla di meno se si riesce a cittare l'occhio nei primi turni ovviamente l'occhio diventa un problema per la maggior parte dei mazzi in questo caso tra l'altro il meta se non ricordo male non era neanche particolarmente aggro perché i grul aggro erano solamente due quindi c'erano pochi deck che potevano essere più veloci di lui erano tanti golgari, tanti gli orzov e il primo a piazzarsi è un bellissimo azorius tempo in seguito da un bellissimo jeskai convok che è sempre quello ragazzi non cambia praticamente nulla, ormai questa è la versione che conosciamo la chiama jeskai aggro ma è in tutto e per tutto jeskai convok questo è un altro mazzo che secondo me potete craftare di quasi sicuramente mi piace molto che abbia messo dentro la painter studio che avevo visto essere forte in discussione spoiler quindi sono veramente tanto tanto contento di vederla in questa top 8 questa è una lista che è forte ragazzi punto arriva terzo grul prowess senza ley line ma come vi ho detto erano molto pochi questo fa un buonissimo 6.2 con una versione abbastanza classica devo dire non dico nulla su questo mazzo, è il classico grul che girava prima dell'uscita di duskmor è un bel mazzo aggro, è normale che vediamo anche lui in questa posizione quarto posto per azorius control che è il mazzo che abbiamo praticamente giocato ieri e abbiamo fatto il massimo del risultato ho poco da dire, è azorius solo perché splash a jace, è un mazzo forte lo abbiamo visto in azione, qui arriva addirittura quarto in coda Golgari Midrange, lista classicissima che rinuncia alla combo di Inkeeper Talent e Vraska è la versione mid vecchia io ragazzi sinceramente questa versione a me non piace non capisco perché giocare senza la combo che nel meta sta bene questo è semplicemente un midrange faccio veramente fatica a capire perché sceglievo di giocare questa e non la versione normale il fatto è che questa è una delle carte più giocate questa arena di Ferexia power upata ed è tanta 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 roba a me piace molto che questa sia arrivata tra le migliori carte di standard al 100% però personalmente questa versione non mi piace di Golgari Midrange arriva sesto ancora una volta l'occhio con una lista praticamente uguale settimo azorius enchantment che se non ricordo male è la versione aggro esattamente azorius ecco se qualcuno vuole prendere e importare su arena una versione aggro di azorius credo che questa sia la versione più forte magari andate a mettere qualche risposta in più alle minacce contro i vostri pezzi tipo lane gate contro contro chebratta in main e la potete giocare best of one secondo me questa è un'ottima versione non mi sembra affatto male infatti ha fatto un buon 4-3 in challenge che non è il migliore dei risultati però ci siamo capiti e poi 4c control che ragazzi non ha senso chiamarlo 4c control questo è impending domain e va bene così non è proprio domain però è ce l'avete capito è quella lista su via non credo che giochi a tra axe e company chiamatela impending control che 4c non ha nessun tipo di senso è un mazzo che abbiamo già visto e rivisto chiude con doppelganger con i impending clonati con i loro effetti è 95 carte tra l'altro quindi gioca un sacco di carte in più ed è riuscito a fare un ottimo ottavo posto sopra tanti altri mazzi sono ancora dell'idea ragazzi che ora come ora siamo andati un pochino a sfanculare la matematica di magic nel senso che ci sono talmente tante power play che come vedete un mazzo che gioca così tanti 4x che va a sfondare i numeri perché ripeto ne gioca 95 al posto di 75 quindi un mazzo da 80 di main ormai può fare veramente tutto siamo qui siamo qui questa era la prima challenge poi standard ancora vince azorius control azorius è lo stesso mazzo che abbiamo giocato ieri questa è la lista che ho importato e poi l'ho modificata per il best of one niente di più niente di meno è mono white control che splasha il blu per jace per vincere contro domain e mirror e altri mazzi similari ovvero gli altri control e i mid range che vanno per la lunga dietro di lei gruel prowess al secondo posto anche questo senza l'eyline voglio vedere se è lo stesso ragazzo che le ha giocate entrambe fammi vedere no si è lui è lui è lui ok è la stessa lista per quel motivo lì ha fatto comunque due top 8 a me non piace la versione senza l'eyline secondo me non ha senso giocarla se puoi giocare l'eyline però va bene gg al ragazzo che riesce comunque a portarla in top terzo arriva ancora azorius control che è ovviamente un'altra versione di mono white che però gioca in a gate di side come power up in più rispetto al solo jace quarto geskai aggro che è sempre geskai convok quinto golgari midrange penso che sia lo stesso golgari midrange tra l'altro vediamo è lo stesso ma probabilmente sono gli stessi giocatori alla fine no non sono gli stessi giocatori ma la lista è la stessa poi mono white no scusate orzov ecco questo è un mazzo che vi volevo farvi vedere questo è il mazzo che volevo farvi vedere questo è orzov midrange che gioca un stoppable slasher e praticamente è un mono black che si splasha di bianco solamente di side ed è una figata mi piace tantissimo questo è il genere di mazzo che giocarei io se giocassi best of 3 tutti i giorni perché mi piace tantissimo inserire un colore in più solo post side questa cosa mi fa uscire matto e lo fa solo contro determinati match up tra l'altro mi piace molto mi piace molto questa scelta partire mono black e poi se tappare se tappare il bianco solo post side si è vero due legion che esiliano quindi sceglie di giocarlo per quello ma è mono black ragazzi chiaramente mono black che diventa solo post side un bellissimo orzov poi 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 mono white token a me questo mazzo non piace cioè secondo me potete giocare dei mazzi molto più performanti di questo e cioè i mono white control però è molto simile bene o male è molto simile credo però che giocare jace sia più importante che giocare i recruiter come winmore e non vedo perché sporcarlo di blu quando lo si può di rosso quando lo si può sporcare di blu e poi chiude ancora una volta una volta un jeskai con walk sappiamo che è un mazzo che sarebbe rimasto solido ed è rimasto solido terza sta è andar challenge vince golgari midrange anche qui ragazzi io continuo a dire che non ha senso giocare senza la combo questo ci riesce a fare primo posto con un 7-2 non capisco perché rinunciare a una combo che ti fa auto win su un pezzo che comunque potenzia la tua board ma va bene probabilmente il meta è troppo aggro per giocare ora con la combo ma non sono d'accordo io su questa cosa probabilmente questo fa delle scelte più life gain anche che vedo il tranquil thrillback di main il tranquil thrillback di main gioca l'eglissa perché è importante spaccare incantesimo a me sinceramente non piace questa scelta secondo me è più forte giocare la combo poi vedremo se tornerà mai però si set up abbastanza bene c'è un buonissimo mazzo anche questo è un ottimo golgari midrange secondo arriva ancora una volta azorius control azorius control che però in questa versione qui è ancora più particolare io l'ho detto che questa carta era forte e secondo me questa carta è forte perché questo è l'impending che viene snobbato di più sinceramente a me piace molto questo impending anche perché a tre mana pesco due scarto uno secondo me in mazzi come control ci sta da dio perché due mana scarto uno e poi sto lì e diventerò una minaccia successiva io mi posso sovrattare ma lui rimarrà sempre qui non c'è fair well in questo standard secondo me questo è ottimo infatti questo mazzo arriva a fare secondo posto poi vabbè gioca la horned è un uv control fatto e finito lo proverò in best of one non funzionerà mai ne sono consapevole però è il genere di controlli che a me piace piace tanto 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 quindi gg a questo ragazzo mi piace molto la tua lista complimenti gg veri e validi a Zorius tempo occhione arriva terzo è un mazzo che va devo riuscire a portarlo a premio anche in best of one in qualche modo probabilmente in best of three è tanto più forte anche perché poi si set up tantissimo contro alcuni match up invio uno è un pochino un lancio della moneta sulla mano e sulle prime millate però è veramente un mazzo forte riconosco che l'occhio è tanto tanto forte infatti fa sia terzo che quarto posto la lista è praticamente ragazzi sempre quella non cambia se cambia qualcosa cambiamo veramente delle virgole anzi terzo quarto no quinto è control quinto è control che è un altro control control vero anche qui viene a giocare quattro overlord e poi si ha comunque delle caratteristiche simili a monowhite control però questi sono control veri mi piace molto mi piace molto il fatto che ci siano state tante belle versioni dei controlli bene bene vuol dire che standard più ricordatevi che più control ci sono più il meta probabilmente è bello e vario quasi sempre così ors of midrange arriva in questa posizione arriva sesto e anche questo è lo stesso mazzo di prima che poi si splascia di bianco definitivamente post side mono red prowess arriva settimo questo è un mono red molto particolare perché è un mono red che gioca più o meno da mono red ma rinuncia ai topi per andare a giocare proprio da prowess deck e poi ti piazza anche dell'eurobrask forge nei denti questa versione si può provare in best of one però non capisco quanto sia conveniente giocarlo senza layline anche questo non mi piace che lo stiano giocando senza layline secondo me qui una layline ancora più importante perché giochi slick shot plottato perché c'hai dei pezzi che hanno delle caratteristiche importanti che triggerano sugli attacchi dove tu puoi potenziarne due al posto di uno è vero che gioca tanti botti gioca tanti botti che tolgono creature quindi probabilmente per quello però lo proverò comunque lo proverò mi piace molto mi piace mi piace molto molto poi ultimo arriva domain allora ragazzi domain è un mazzo molto forte in questo momento qua però non capisco se vale la pena giocarlo perché secondo me nel formato sta di merda a livello di tempo ok sia in best of one che in best of three può vincere però è tanto tanto lento nonostante io credo che sia il miglior mazzo del formato a livello di capacità di risposte dopo ci sono dei matchup che non vince mai tipo quando parte male lento contro aggro non vince veramente mai però secondo me può vincere più o meno da tutto quando ha una mano ottimale non lo so se ne vale la pena è un mazzo costosissimo come vedete qui siamo arrivati a toccare i 572 dollari per standard alla faccia che standard sia un formato accessibile mi piace molto che questo giocatore giochi a 61 non a 60 anche qui la matematica del gioco va a sfancularsi ma secondo me ormai ci si può permettere queste scelte perché il gioco è veramente tanto power play ormai è tanto centrato su bombe 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 e ormai puoi fare quasi tutto quello che vuoi sempre con rigore di logica per me domain è molto bello insisto nel dire che domain è un mazzo bello però arriva solo ottavo nelle challenge probabilmente proprio per la iper lentezza che ha dovremmo aver letto tutte ah no scusate scusate ho mischiato due ho mischiato due challenge perdonatemi domain è arrivato ottavo nell'altra challenge vedete dopo qui ottavo era arrivato un golgari midrange anche questo senza hanno rinunciato alla combo per mettere dentro noly annex che fa vantaggio devo provarla questa versione magari con noly annex è veramente più forte della combo a questo punto perché per averlo per averlo tolto tutti ma non lo so la proverò io secondo me una win more combo serve però magari mi sbaglio l'ultima standard challenge dove è arrivato ottavo domain e tra l'altro anche mono red prowess era lì perché qui settimo era mono white mono white control no mono white token vabbè un di mazzi che non mi piace secondo me non ha senso giocarlo perché puoi giocare il controllo ma ci sta ultima challenge standard è vinta proprio da mono white token ragazzi a me non fa impazzire cioè l'abbiamo provato secondo me il control è troppo più forte e ripeto non ha senso splasharlo per questo però non lo so ci può stare alla fine ci può stare golgare arriva secondo golgare arriva secondo sempre con annex e non con la combo quindi deve avere un senso deve avere un senso questa cosa dopo golgare abbiamo occhio occhio e ma si l'abbiamo già vista questa ok l'abbiamo già viste l'abbiamo già viste allora passiamo al pioneer passiamo al pioneer comunque standard è un formato veramente bello io dico chapeau perché a me personalmente questo standard piace tanto tanto pieno di mazzi che si scambiano le top 8 a vicenda e questa roba è veramente figa è veramente figa standard è bello standard è tanto tanto bello vediamo se il pioneer ci esalta alla stessa maniera qui vince un combo qui vince un combo un combo ah è tipo che ti scombo ah si 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 l'ho vista è la versione che va all'infinito nel nel discover dungeon come si chiama nel enter the dungeon tipo discende dungeon e è praticamente che ti scombo che però ho bisogno di questi due per chiudere ve lo riassumo così e poi ti tira giù dei bobboni assurdi non lo so io penso che questo abbia vinto è che il meta non era preparatissimo per lui perché tipo su su explorer possiamo giocarlo praticamente uguale ma non l'ho mai visto giocato bisogna bisogna provarlo in realtà non mi fa impazzire secondo me è molto lenta come cosa certo quando parte non lo fermi più però a me sembra molto lenta vediamo il meta di questa challenge un attimo c'erano dei gris fan quanti aggro c'erano 4 e lui era l'unico che giocava quello secondo me non erano tanto preparati per quel mazzo qua mono black mono black classico è praticamente la lista vecchia che ha messo dentro lo slasher e poi fa le stesse identiche cose che fa mono black da una vita bello tanto bella questa la si può giocare dopo in explorer pari pari piace molto il mono black da pioneer poi enigmatic incarnation che è il mazzo più forte di pioneer a mani basse c'è sempre non vediamo l'ora di poterla giocare anche su arena ma non arriva mai questo cazzo di mazzo perché manca ovviamente enigmatic incarnation o c'è enigmatic mi sbaglio con un'altra carta aspetta no enigmatic c'è non è enigmatic che manca questa è che manca fammi mettere ce n'è una che manca sempre forse questo si può giocare pari pari hanno messo dentro gli overlord questa forse non c'è ah qui questo si può giocare pari pari ragazzi manca print to light esatto ma qua non c'è questo si può giocare pari pari cambi solo l'angelone bella e chained ma qui non c'è qui non giocano giocano portable all bella questa lista molto carina molto carina questa lista aspetta che me la salvo questa me la salvo perché è molto bella si può giocare si bella molto dopo la voglio giocare si può giocare pari pari su varena non so se funziona ma la proviamo poi mardu midrange è tornato un po' di mid nel rosso nero ovviamente arriva overlord ma credo che sia un reanimator di per sé questo scusami vedo overlord attrax e valgavot infatti è reanimator perché è midrange reanimator punto vabbè perché probabilmente post side diventa mid si si però non è midrange è reanimator ragazzi è un mazzo che è midrange perché non è è una metavia però io lo definirei tanto reanimator qualcosa qua non midrange però vabbè non cambia la sostanza è che è un mazzo forte il z phoenix arriva solo solo quinto continuo a dire a tutti i professori che avevano detto il z phoenix mazzo più forte non è una merda è forte ma arriva quinto hanno proprio gestito bene questo formato bannando bannando vain ripper cioè sorin scusate e amalia e il z phoenix non fa così tanta paura poi rakdos prowess ovvero mono red splashato di nero questo è un mazzo figo ragazzi l'aggro più forte del formato e lo sappiamo bene ormai si è confermato un altro mono black midrange tanto tanta roba anche questo è un mazzo che voglio assolutamente provare e poi chiude un altro i z phoenix che sesto e ottavo ciaone come mazzo più forte del formato poi ragdos prowess vince l'altra challenge classicissimo top of fling sappiamo tutti quanto è forte continua a dire non ci possono essere due mazzi in standard e in paio in uguale in standard o in paio ne deve saltare un pezzo secondo me io spero che lo faranno per i bene dei formati però chissà azorio cioè uv control arriva secondo la versione è abbastanza classica mi sembra si non c'è niente di spicy devo dire forse il portable haul contro aggro molto carini i portable haul bisogna provarli bella lista classica bella c'è un po' c'è un po' quello di uv è forte in pioneer ragdos aggro è ancora un ragdos prowess immagino fanno primo e terzo posto quindi grisfang in top 8 con un mardu che cosa gioca per essere arrivato giocherà l'impending nuovo esatto e vabbè è sempre grisfang ci sta ci sta ciao ci sta è sempre grisfang dopo ti faccio lo shoutout e fammi finire un attimo la la review del metagame di pioneer questo è incarnation con gli orion questo dovrebbe avere le carte che non esatto che non abbiamo no questo ce l'abbiamo no c'è tutto anche questo ma come sono diventati belli questi mazzi adesso giocano tutti gli impending cazzo che bello anche questo qui devo provarli questo gioca azzur per animare gli overlord bello devo lasciarli aperti entrambi perché voglio provarli poi ragdos midrange arriva sesto e questo è mid puro e alla fine è mono black con rosso il nero ha preso veramente tanti power up mamma mia che bello poi mono red aggro chiude col settimo posto mono red versione classica con tre bon crash giant di main va bene ok non capisco il perché ma ce lo spiegherà lui bello classico e poi e poi e poi cos'è che chiude azorio's flash che è spirit immagino esattamente bello vederlo in top 8 bello 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 tanto facciamo facciamo lo shot autone al buon dem andate a vedere il video che sta per uscire esattamente tra tre minuti merita anche perché con lui abbiamo fatto una bellissima chiacchierata sul gioco lo consiglio veramente a tutti altra challenge di pioneer di miracro è il primo bello poco da dire di miracro in questa versione lo voglio provare guardate cosa gioca lo devo provare lo devo provare godo devo provarla questa versione sembra figa in best of one non so che cosa fa però sembra figa tanto questa versione qua e sono contento di vederla con un bellissimo 8-2 in challenge segue ovviamente l'intramontabile gurprowers tanta tanta roba mono red è tanto forte ragazzi splashato è ragdos mid ragdos mid lo vedo abbastanza classico è la stessa lista praticamente che abbiamo visto prima forse con qualche touch inside mardu grisfang idden strings che purtroppo è il mazzo che non si può giocare su arena e questa cosa la detesto e dopo idden strings arriva mono black mid range per l'ennesima volta mono black è veramente tanto forte in pioneer e chiude la curva ragdos transmogrify insieme a un mardu grisfang guardo solo transmo per vedere se è cambiato qualcosa sì finalmente si gioca questa e non valga che non capisco quanto valga la pena giocarlo secondo me è troppo più forte a trax a quello vantaggio che fa bello pioneer tanta tanta roba ma parliamo anche di modern raga modernisti per favore ci facciamo sentire ci facciamo sentire modern è in uno stato pietoso guardate ve lo faccio vedere subito challenge numero 1 vince boros energy challenge numero 2 vincono 3 boros energy ho bisogno di aggiungere altro 4 boros energy in due challenge sono in primo posto primo posto secondo posto terzo posto almeno i modernisti che vengono un po' più ascoltati probabilmente per le vendite perché comunque gli fanno fare i torneoni a wizard possono un attimo alzare la voce e dire oh ci siamo rotti il cazzo che boros energy abbia una marcia in più degli altri e non mi dite che è la prima volta che succede perché cazzo boros energy è stra giocato c'è 13 mazzi contro tutto il resto del meta in questa challenge di qua 10 mazzi contro tutto il resto del meta è troppo più forte ragazzi boros energy tra l'altro è praticamente la versione che si gioca in timeless quasi una rottura di cazzi ragazzi dai non è possibile che che questa cosa sia sia così cioè è modern dove tre mazzi sono gli unici tre che stanno in top 8 nella challenge no tra l'altro cioè vogliamo vedere il meta boros energy colgari zombie figo che torna finalmente a farsi vedere anche questo mazzo beh molto bello è praticamente zombie aristocrats è praticamente un vecchio aristocrats molto figo bello che si giocano le flare of malice molto molto bello ma poi gli altri sono boros energy rakdos mid che dovrebbe essere scamless vediamo se è scamless no è aggro ah è all of one ostis bello siamo tornati a giocare all of one anche bella questa qui le ho anch'io bello questo mazzo lo giocavo anni fa lo voglio riprovare è all of one deck che qui chiamano rakdos mid potevano chiamarlo all of one e lo capivo subito che mazzo era bello non è scamless bello e e poi eldrazi che è un mazzo figo mazzo figo davvero si può giocare pari pari su arena credo questo eh si tranne per alcune terre si può giocare pari pari su arena è un mazzo figo mi piace e beh ovviamente noi non abbiamo i templi però eh quindi cambia tanto e true the breach che è un altro combo conosciamo tutti true the breach tira giù il muccone che è questo e penso che sia woodland in realtà di me ci sarà woodland no la giocano senza woodland questa e beh è eldrazzoni alla fine anche questo allora ok è classico true the breach del drazzoni e poi chiude un altro boros energy l'ennesimo e cioè in top ne abbiamo tre sempre facciamo i nostri conti e dimir murtide e dimir murtide che vabbè ci sta è un mazzo bello è uno dei pochi mazzi che mi piace qui come in timeless è pazzesco come il timeless sia palesemente la brutta copia di modern adesso con qualche carta in più che rompe più le palle come si risolve? sì con un cazzo di ban ragazzi se banni bombarda o ajani e io dico ancora una volta che va bannato ajani il mazzo gatti perde o boros energy chiamatelo come volete perde la metà della sua forza e non lo vediamo più rompere i coglioni si può giocare comunque aggro perché osselot è comunque a uno e anche guide of souls se gli togli magari anche la cobo wind di combo forse regoli un attimo la cosa perché è vergognosa qui dietro boros energy guardate un po' chi c'è mono blue belcher che sta girando in modern adesso mi piace tantissimo questa roba qua questo qui gioca su una marea di cantrip e va a fare esattamente come fai c'è belcher su arena in istorica a un certo punto ti ammazza bellissimo gestione counter e cantrip vai a generare questa cosa qua fa figo figo e basta però è belcher domain zoo lo ritroviamo in top 8 questo mazzo vecchissimo cosa ha preso? è semplicemente tornato cioè qui ha avuto una ah gioca leiline bello certo ma la giocava già è tornato va bene bello rivederlo in top 8 non capisco quali siano i cambiamenti credo non ce ne siano stati ma tanta tanta roba bravo bravo a chi ha portato domenzo boros energy boros energy belcher domenzo belcher boros energy boros energy cioè ragazzi dai vi prego fa cagare il modern in questo momento in top 8 ne abbiamo 5 e poi fuori dall'ottop 8 6 7 8 9 nei primi 15 15 mazzi ragazzi se arriva ancora un modernista a dirmi che modern è bello lo banno direttamente porca troia perché questo modern è uno schifo passiamo a legacy passiamo a legacy legacy vg eh vg vg ma è il secondo mazzo che poi vi voglio far vedere bello perché no modern maggiore standard 7 1 ti stai presemente sbagliando eh no federissimo no allora vg ci sta ha tantissime terre fighe adesso il drazzi praticamente quindi ci sta veramente ci sta veramente ragazzi ci sta veramente giocare quel mazzo qua è tanto figo tanto tanto figo l'aveva detto anche lui Toselli nel bellissimo video con Cina Biondo che si chiami Luca Luca Toselli che il drazzi aveva preso una bella spinta e figa quante ne sapeva bravissimo quel video lì è figo andate a recuperarlo veramente bello ma dietro di lui chi arriva ragazzi era una vita era una vita che non vedevo questo mazzo questo è uno dei mazzi che potete budgettizzare di più in Legacy è praticamente Blood Moon combo a volte diventa prison a volte no ma è fighissimo monored in Legacy potessimo giocarlo così anche su arena cazzo invece no quattro anelli di main che bello che è questo monored che bello che bello questo è veramente figo non ho visto le liste standard del Giappone questo è veramente bello bellissimo bellissimo poi Doomsday questo è un mazzo un po' più classico già è la combo tassa oracle praticamente si gioca a pari pari quasi con le risorse che ci sono su arena in in Timeless quantomeno si giocava in Best of One poi Dimir Tempo che dovrebbe essere Dimir Rana esatto sempre presente anche lui però mi piace che sia solo quarto monored iniziativa che è la stesso mazzo che abbiamo visto prima solo in una lista abbastanza diversa e poi Reanimator sempre Rana che reanima cose è sempre quello il mazzo in realtà solo che questo passa ma forse è lo stesso in realtà forse ne hanno solo chiamati in modi diversi no questo non non rianima proprio questo è proprio tempo ok perfetto 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 e chiudere il giro di boa no basta era l'ultimo perché era già l'ottavo l'altra challenge la vincere Animator il drazzi è il drazzi figo monogi il drazzi ci sta ragazzi è un vg senza v ug scusate senza senza u e questo lo potete quasi giocare uguale su arena ma avete bisogno di terre molto più forti che noi purtroppo non abbiamo in legacy lo potete giocare anche questo è abbastanza budget in realtà può essere budgetizzato anche questo non per performare ma per provare questo cos'è è reanimate ok perfetto ok e la combo con grizelbrand lo rifai con reanimate ti peschi tutto il mazzo vai all'infinito certo e poi Mystic Forge combo dovrebbe essere monobrown esatto monobrown beh comunque che legacy ne ha di mazzi adesso sono tutti simili più o meno e il drazzi sono sicuramente molto forti però anche il legacy ha più mazzi del modern incredibile tra cui monoblutempo figa delvere ancora in giro che incredibile in questo magic nuovo delvere ancora in giro e che cos'è questo epic storm 5 c storm sarà sì 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 è 5 c storm bello legacy molto bello ragazzi ma sai che al di là di modern che è una chiavica historic timeless che sono due merde ormai non sono così insoddisfatto della situazione standard pioneer legacy sembra figo sembra molto figo sembra molto molto figo do per scrupolo un'occhiata a pauper vediamo pauper cosa ha fatto una challenge guardiamo dai una bella challenge di pauper vince turbo fog cioè ancora esiste moment of peace minchia turbo fog è veramente devi essere veramente una 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 persona che odia la vita perché nessuno ti vuole bene se giochi turbo fog in pauper però ci vince quindi ha fatto una grandissima scelta poi secondo monoblue delver che dovrebbe essere il monoblue con i serpentoni bello questo mazzo voglio montare anch'io questo è chrysalide deck un mazzo più brutto del pauper secondo me non per forza è molto forte questo mazzo ma rende il gioco un po' stupido secondo me questo mazzo qua dimir control è è il monowood splashato di nero che dovrebbe giocare le fatine no non gioca le fatine questa versione qua gioca semplicemente i serpenti ci sta bello poi affo sempre vivo io non continuo a non capire perché gli lasciano i ponti però va bene monorel synthetizer monorel synthetizer e glint blade che è blade orzo of blade ok si è orzo of blade bello questo mazzo tra l'altro ce l'ho tutto posso montarlo instant questa cosa qua bello anche pauper tutto sommato otto mazzi sette mazzi diversi eh sette mazzi diversi sette mazzi diversi eh mandami hamburgeromani mandami il link che lo guardiamo in diretta adesso dai se me lo mandi in diretta non puoi scriverlo in chat ovviamente ve lo devi mandare su discord lo guardiamo lo guardiamo in diretta perché qui su mtg golfish non c'è comunque non è male la situa solo in modern è un disastro e in standard bisogna capire forse se beh ma tanto arriva foundation quindi in standard è inutile parlare di cambiamenti attuali non banneranno niente tanto finché non arriva foundation l'avrebbero già fatto credo eh però non mi sembra male non mi sembra male questa situazione qui allora in legacy è bello però ormai in legacy sappiamo che è una nicchia modern disastro pioneer sembra tanto bello adesso vogliamo provare delle liste sicuramente standard è un po' blu bianco centrico forse è forse un po' oddio però golgari vince sono tutti a 5 colori in standard il rosso c'è nell'aggro dove dove l'è mandato hamburgerone il rosso c'è nell'aggro il blu c'è nel controllo e nel tempo il bianco c'è in control e in aggro si anche in aggro considerando boros token il nero c'è in monoblack e in golgari e il verde c'è in golgari ma un bel formato anche lo standard in liste per baina perfetto grazie vediamo vediamo cosa ci ha mandato il buon hamburgeromane liste per baina allora lecris per baina eccolo qua vediamo un po' azorius enchantment ah beh si è enchantment aggro l'abbiamo visto l'abbiamo vista questa versione qua è un'ottima versione secondo me questo mi piace molto piace molto 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 ma fammi vedere tutto il torneo vediamo se lo trovo Japan Standard Cup quindi dovrei in teoria Japan Standard Cup scriverlo qua no e dovrebbe trovare no non login ah no questo è search se vado qua major event eccolo qua last week a riga sopra ah stando attorno metterlo qua grazie Japan Standard Cup vinto da azorius tempo con l'occhio secondo golgari terzo azorius aura che è il mazzo che abbiamo appena visto grulaggro arriva grulaggro ah ma perché c'è c'è fling fammelo vedere e beh ragazzi questa è una carta forte non mi stupisco che sia arrivato a fare un risultato buono quarto figa ok grulaggro ancora ban token di mirmidric ma è bello è bello standard è bello ragazzi io vedo tutti e cinque i colori in top 8 bello sono molto contento di questa di questa situazione del gioco adesso voglio provare quel mazzo fighissimo che abbiamo visto un po' di questa un po' di questa qui è un po' di questa è bello che abbiamo visto